ciao oggi siamo qui in 360 e vedremo come vengono eseguiti i test per il ciclismo i test sono fondamentali perché come vedremo nel corso del svolgimento sono alla base di una corretta programmazione dell'allenamento il bike test è costituito da una serie completa di test che mi servono per andare a valutare diversi aspetti dell'allenamento dello stato di colma